Oggi per la regione Abruzzo, per tutti gli abruzzesi, vorrei dire per la Repubblica italiana ed anche per me personalmente è un giorno di immensa gioia perché tutti insieme chiamati a vivere un simbolo di rinascita, di apertura al futuro e alla speranza. Il 22 giugno 2018 rimarrà una giornata storica per il Consiglio regionale. A distanza di nove anni dal sisma che lo aveva gravemente danneggiato, il palazzo dell'emiciclo è stato riconsegnato ai cittadini abruzzesi. Al taglio del nastro, preceduto dalle note dell'inno nazionale interpretato dal tenore Aleandro Mariani, hanno partecipato numerose personalità politiche e religiose, oltre a tanti cittadini giunti nel capoluogo da tutta la regione. Un evento che ha avuto anche una ribalta nazionale. Vedete le mie spalle in tutto il suo splendore, rinasce con un rivoluzionario sistema antisismico il palazzo dell'emiciclo. Nove anni fa stava per crollare, le scosse avevano compromesso l'emiciclo dell'Aquila, sede del Consiglio regionale. È stato riconsegnato oggi alla città il palazzo dell'emiciclo, sede del Consiglio regionale. Due anni e mezzo di lavori per compiere un'opera che ha dello straordinario, il restauro conservativo e la messa in sicurezza antisismica del palazzo dell'emiciclo all'Aquila. Oggi, dopo due anni e mezzo di sofisticati lavori di ristrutturazione, costati oltre 8 milioni di euro, può essere definito uno dei luoghi a maggiore tenuta antisismica d'Italia. In diretta per noi dall'Aquila è collegata Daniela Senepa. Sì, buongiorno. È una inaugurazione che sa tanto di futuro nella città dei simboli. È davvero un simbolo questa riapertura del palazzo dell'emiciclo. L'inaugurazione è stata seguita da tanti italiani che dai loro schermi hanno potuto ammirare un simbolo della ricostruzione regionale, diventato un cantiere modello a livello europeo per i sistemi di sicurezza sismica. Agli occhi dei presenti, il nuovo miciclo si è presentato in tutto il suo ritrovato splendore, con la facciata completamente rinnovata, la policroma bellezza della vetrata firmata dall'artista Franco Summa, il giardino d'inverno, la biblioteca, la riconnessione esterna con la villa comunale dell'Aquila. La nuova casa dei cittadini abruzzesi è stata accolta con entusiasmo, come dimostrato dal successo di pubblico, proseguito anche nelle giornate di sabato e domenica. Un fitto programma di eventi è accompagnato l'inaugurazione, a cominciare dalla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative, che ha approvato un ordine del giorno per invitare le istituzioni europee e il governo italiano ad impegnarsi affinché, in tema di catastrofi naturali, sia modificata la disciplina degli aiuti di Stato. Inoltre i presidenti delle assemblee legislative delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia hanno sottoscritto un importante protocollo d'intesa per la valorizzazione dei tratturi. Documento molto importante perché da una governance a queste strade attraverso le quali si fa turismo lento, riscoperta di territori, soprattutto l'Abruzzo è considerata una regione molto attraibile sotto il punto di vista ambientale, storico, archeologico ed enogastronomico. Durante la giornata il presidente del Consiglio regionale del Molise ha fatto dono al collega di Pangrazio di una nuova campana, realizzata dalla Fonderia Marinelli, come auspicio per il nuovo palazzo dell'emiciclo. Si è poi tenuto l'importante convegno internazionale sulle calamità naturali, scandito dagli interventi di prestigiosi relatori e del noto divulgatore scientifico Mario Tozzi, che ha parlato della ricostruzione aquilana. Ci vorrà tempo, le ricostruzioni sono lunghe, 15 anni aspettiamocelo in tutto, perché non è che prima sarà difficile farlo, però con questo si riesce, anche con questo aspetto simbolico della struttura, io penso che si riesce a venire fuori avendo ormai messo in sicurezza le vite, direi, per terremoti di questa magnitudo che purtroppo torneranno. Per Tozzi, nella gestione delle calamità naturali, assume importanza soprattutto una corretta informazione scientifica su questi temi. Bisognerebbe scegliere i migliori perché facciano comunicazione, sia all'interno delle strutture universitari di ricerca, quello è importante, ma anche all'interno della protezione civile e delle altre strutture, non lo devo certo insegnare io, insomma, ma si è visto che un messaggio chiaro, non banale, ma chiaro, è molto più efficace di uno, magari più rigoroso e articolato, ma poi è difficile da comprendere. La giornata più importante per la sede della massima istituzione regionale si è chiusa con rinnovate certezze. L'Aquila e l'Abruzzo ce la possono fare, si può risorgere dalle macerie, ricostruendo pezzi di memoria e nuovi spazi a disposizione della collettività. È un bel regalo fatto alla città dell'Aquila, ma soprattutto agli abruzzesi, dove potranno entrare dentro questo palazzo non solo oggi, ma anche per il futuro. Spazi interni ed esterni a disposizione dei nostri cittadini. Io spero che questa possa essere solo la fine di una grande fatica di ristrutturazione e l'inizio di una grande fatica per far vivere l'emiciclo e le istituzioni a tutti i cittadini in una maniera molto democratica all'insegna della pacificazione umana. Grazie a tutti.